Ecco il bambino che impasta, bravo, come va ma c'è? Bene, c'è un metà gli olivi. Quante uova hai messo? 5 uova per mezzo chilo di farina, un po' di più. Faticoso, eh? Stendi, stendi. Amici di Facebook, guarda che faccio i tagliolini anche per voi, venite a mangiare con un pezzo dietro. Una parte li facciamo oggi, una parte li congeliamo. Continuiamo poi quando stai tagliando. Sta venendo bene. Va bene, saluto tutti. Ciao. Ciao.